Musica Anche quest'anno il premio Italia Tavola che si è svolto a Bergamo ha riservato un ampio spazio all'arte. Arte legata al cibo si intende con il quadro di Evaristo Baschenis, Cucina, Corrami e Fantesca, a fare da faro per i due momenti riservati all'incontro dei due mondi. Da una parte la mostra il cibo in scena, allestita all'interno dell'Accademia Carrara, curata da Silvia Tropea Montagnosi ed Enrico De Pascale, con la direttrice Maria Cristina Rodeschini a fare da guida e l'assessore alla cultura del comune di Bergamo, Nadia e Chisalberti, a tagliare il nastro. In esposizioni dipinti di nature morte che hanno come soggetto il cibo o persone alle prese con strumenti di cucina, immortalate nell'atto del cucinare. Al centro della sala dove sono state esposte le opere, un tavolo con accatastate sopra una serie di pentole antiche di rame che riprendono quelle raffigurate dal Baschenis nel suo quadro. Pentole che sono diventate anche strumenti musicali, grazie all'inventiva del musicista senegalese Dudu Kwame che ha inaugurato la mostra con una performance applauditissima. Il secondo momento artistico invece è stato quello riservato al concorso fotografico La cucina e il cibo simboli di accoglienza che sabato pomeriggio ha vissuto il suo momento clou, quello delle premiazioni. Brigida Tullo nella categoria miglior fotografia studenti, Pietro Amendolara come miglior fotografia in bianco e nero e Riccardo Moretti nella categoria miglior fotografia colori sono stati i tre vincitori. Le tre opere più altre scelte dalla giuria sono in esposizione all'interno dell'Accademia Carrara. La mostra rimarrà invece allestita in Pinacoteca fino al prossimo 2 maggio. Grazie a tutti.